Le ultime novità dal punto di vista informatico introdotte nella gestione dei servizi tributari comunali hanno semplificato notevolmente la vita dei contribuenti. Basti pensare che collegandosi al sito internet del Comune di Napoli è oggi possibile pagare gli F24 per i mutasi e tari senza costi di commissione, prenotare un appuntamento agli uffici di Corso Lucci evitando code interminabili ed effettuare dichiarazioni relative all'Atari. Meno fila a Corsoldato Lucci perché sarà possibile prenotarsi online, quindi da casa il cittadino scelerà il giorno e la fascia oraria. Più facilità nell'accoglienza perché l'ufficio saprà prima di cosa ha bisogno quel cittadino e quindi preparerà per tempo tutti gli atti necessari. Più facilità nella compilazione perché tramite l'accesso online il cittadino potrà fare tutte le operazioni che lo riguardano, nuove iscrizioni, variazioni, pagamenti e stampa della modulistica e più punti di riferimento in città perché nei prossimi giorni noi faremo convenzioni con i CAF autorizzati, con le associazioni consumatori, con gli ordini professionali a partire dall'ordine dei commercialisti e quindi ci saranno decine di punti liberamente a disposizione delle donne e degli uomini. Insomma, il rapporto con la pubblica amministrazione si semplifica e di tanto. Cambia quindi completamente il rapporto tra amministrazione e cittadino perché i nuovi strumenti online consentono di compiere velocemente e in autonomia una serie di operazioni. Fondamentale a tal fine la collaborazione con la società napoletana Advanced System che ha fornito al Comune la piattaforma per la gestione dei tributi. Il software dà finalmente la possibilità ai contribuenti di poter consegnare le istanze online al Comune di Napoli. Riesce quindi, si semplifica la vita al contribuente perché il contribuente può evitare di andare a corso a Naldo Lucci ma direttamente quando vuole, in qualunque orario, tutti i giorni, può collegarsi al sito del Comune e consegnare queste istanze. L'altro grande beneficio digitale che c'è con il software è la possibilità di pagare online gli F24. Pagare online gli F24 con carta di credito aiuterà i cittadini ma anche le amministrazioni perché si ridurranno gli errori di digitazione. C'è anche la possibilità di consegnare al Comune la dichiarazione Tari e questo eviterà le grandi file che abbiamo visto. Da un lato questo lato contribuente, il beneficio lato ente invece è che c'è una riduzione dei costi enorme per la struttura comunale.